Mi chiedo, posso prendere Platino? No, non posso. Forse, devo provarci prima. Wahey Kooj, ben ritrovati da vostro, ando in quanto uno su Yo-Kai Watch, puni-puni. Non so sinceramente se la registrazione sta andando bene, se sta andando male, non so che problemi abbia oggi il mio computer. Ad ogni modo, sto registrando da tablet, sono passato da telefono a tablet perché è molto più comodo comunque se giocare. Non per lo schermo, ma avere un dispositivo con cui solamente gioco, oltre ovviamente a Yo-Kai Watch, e uno con cui mandare messaggi, chiamare e fare altro. Quindi, io spero che vada tutto bene, già vedo l'immagine che si sminca, ma ad ogni modo, ho trovato due biglietti per sfidare Platino. Ho slottato tre volte, mi sembra, con la slot con i punti, perché ho passato un'intera notte senza dormire per giocare a Yo-Kai Watch. E fare un po' di slottate. Mi è andata bene perché ho trovato il boss che c'è in questo momento, due non ho trovati, quindi insomma, si è potenziato anche l'Energy Max. È una pippa, quindi non serve a nulla. Mentre ho trovato anche Gibanyan Oscuro, però S non risvegliato, ovvero SS, quindi nulla di che. Ehm, gli Yo-Kai che ho adesso, insomma, li sto allenando per l'attacco a punteggio che, a dire il vero, ho già effettuato. Ma contro Platino dovrei fare un team particolare. In genere, questo è il team con cui farmo, però ho anche tante combinazioni diverse. Posso anche farmare meglio con altri Yo-Kai, però intanto io faccio con questo perché è quello più forte, diciamo, per il momento. La combinazione più forte che ho trovato io. E non so neanche cosa mangia, sinceramente, Platino, se ha un cibo preferito. Perché ho trovato un biglietto per sfidarlo in Wibble Wobble, quando uscì appunto questo, sulla slot Kaioni, che c'era appunto l'evento, il biglietto per sfidare Platino. Però, ah, mangia una pizza. Ah, hai capito, mica stupido. Mica stupido. E niente, sfidiamolo allora. Speriamo di riuscire a prenderlo la prima volta, o meglio su Wibble Wobble. Le sfera sacra mi ha dato, neanche lui. Non so, è un po' una rottura di palle. Però, eh, che ci vuoi fare? Posso sfidarlo due volte e qua speriamo che vada bene. Non lo so, sinceramente non lo so. Spero mi vada buona. Ah, non picchiene anche tanto forte alla fine. Sì, mi ricordo aveva un attacco decisamente basso, ma aveva tantissimi punti vita. E lui voleva tutti i costi proprio perché aveva un sacco di punti vita. E mi sarebbe stato utilissimo per andare avanti perché ci sono certi livelli che ti richiedono un'infinità di punti vita. E ci perdevo anche un paio di volte prima di riuscire a farli. Quindi, insomma, preferirei. Se riesco a caricare l'Energy Max, oppure se vado prima in Fever Time, ce la faccio ad arrivarci a voglio, come no? Andiamo un po'. Mmm, dovrei riuscire a caricare lui prima. E poi anche se, ok. Vai, ci siamo. Io non è che sono uno di quelli che fa tipo flood o robe varie, anche perché non ho gli yokai adatti per farlo. Però, insomma, so le strategie, però non le sfrutto perché non ho i mezzi, ovvero gli yokai, per effettuarle. L'immagine si sta sminchiando talmente tanto che mi fa passare la voglia, proprio. Devo riuscire a trovare un modo per registrarlo un po' meglio? Qui è Andrelink del futuro qui, che vi dice che, sì, la qualità era davvero pessima. Probabilmente, no probabilmente, dovuta, ovviamente, alla scarsa connessione di internet, perché, non lo so, non lo so, da qualche giorno mi va un po' bassina la connessione. In ogni modo, già risolto, almeno spero, comprando un cavo che, connettendolo a Elgato, registro direttamente il tablet in streaming praticamente diretto. Senza Chromecast, senza Google Airplay, senza Reflector, insomma, dovrebbe essere diretto e dovrebbe essere una cosa definitiva, sperando che funzioni. Se non funziona, continuo a fare come sempre, con una qualità pessima. Io odio la qualità pessima. Ma i tuoi video sono in qualità pessima! Sì, ma quello è un altro conto. Anche perché da cellulare andava benissimo, non so perché con il tablet mi fa questi problemi. Ah, pochi punti ho fatto. Nulla di che, nulla di che. Bene, 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 a primo tentativo. Cacchio! Io dico qua, no, neanche con due tentativi c'è la faccia, invece a primo tentativo. Sì, questi yokai sono particolari, alcuni vengono anche a primo tentativo, alcuni neanche dopo cento. Ad esempio, lo yokai che c'è in questo momento, che si trova giornalmente, quella dell'uovo, non ci riesco a prenderla. La sfido ogni giorno, ma dopo cento sfide, basta. L'ho sfilata non so quante volte, e ancora non ci riesco. A un certo punto ci sto perdendo le speranze. Ah, devo usare Platino? Devo usare Platino per prendere la terza stella? E' un po' particolare come cosa? Vediamo un po' com'è Platino, perché sinceramente non lo so. Non sono anche 4 W2R, non ci ho fatto caso. Beh, di base ha molti punti vita. Tantissimi ce n'ha. Se lo metto in squadra, perdo un po' in attacco, ma. Ci proviamo, posto suo. Ma non perdo neanche tanto. Faccio pure meglio di prima, faccio, anzi. Almeno vediamo, vediamo l'Energy Max di Platino, se riesco a caricarlo. I punti vita si sono impennati, mentre l'attacco è diminuito di poco. Ma va bene come prima. Uguale a prima faccio, cioè, carico, poi Energy Max e via. Non sarà tanto difficile, penso, no? Dico tanto che ce l'ho, devo finirlo con Platino. Facciamo anche... Con Platino, facciamo pure la seconda. Se va bene, aumento l'Energy Max. Se va male, amen. Non penso, però, che lo userò più di tanto. Giusto per quei livelli dove ci vuole più... Più vita. Andiamo un po', va? Allora, ho caricato anche Shogun... Eh, sì. G Shogunian con l'Energy Max al massimo. Oh, aumenta l'attacco? Aumenta. Buono! Ah, eccolo, va, ho caricato anche due Scariba. Perfetto, così almeno... Provo a fare anche l'Energy Max dell'altro piccoletto. No, non ce la faccio. Eccolo invece, sì. Vabbè, proprio in zona Cesarini si consuma tutto quanto all'ultimo, ma... Va bene, uguale. Perfetto. Quanti punti ho fatto stavolta? Dovrei averne fatto... Beh, molti più di prima. Accidenti. 5 milioni, insomma. Per forza. Perché con l'attacco aumentato di Platino... Aumenta l'attacco, ma mi sa che l'aumenta di un bel po', non di poco. Le Spera Sacra come oggetto preso. Ah, ok. Vabbè, sì, mo' sali, sali, sali. E ok, va bene, va bene. No, sono contento così, comunque. Almeno gli ho fatto... Mi sembra di avergli fatto terza stella, poi magari non l'ho visto. Non c'è molto caso, sinceramente. Vediamo un po' le missioni del giorno. Qualcosa l'ho completato sicuramente, ovvio. Ad ogni modo, Kuj, spero che il video sia avuto in qualità abbastanza recente da essere visibile. E come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yo-Kai Watch. Stamattina c'è stata la live, non so se è andata bene, perché in realtà io sto registrando questo video venerdì. Quindi non so ancora nulla. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye, bye.